Grazie a tutti. Questa mattina questo nostro panel è molto interessante perché apre su un orizzonte che ormai è sempre più dentro la nostra vita quotidiana, le nostre case e si tratta di interrogarci sul futuro e l'intelligenza artificiale, capire anche come questa nuova rivoluzione possa essere inclusiva e quindi coinvolgere anche il sud e non solamente diventare in qualche modo un sud protagonista non solamente come fruitore di queste ma anche come luogo in cui è possibile sperimentare e quindi accogliere e valorizzare quelli che sono i talenti e promuovere anche quei centri di ricerca e di industria che possano in qualche misura metterci almeno su un livello compatibile con quanto sta avvenendo nel resto del mondo. E allora Giovanna lascio a te la parola perché i protagonisti di questa mattina sono Melinda Chen che è il general manager di Deep Blue Technology, Cina è un ingegnere robotico quindi la Cina è sempre più vicina, il nostro paese ha stretto delle alleanze con questa area del mondo che si presenta come la più attiva in questo momento nell'innovazione. Poi abbiamo il fisico Federico Faggin che ieri è già stato ampiamente presentato proprio qui, che è presidente della Federico and Elvia Faggin Foundation, l'assessore Roberto Lagalla che ci dirà, assessore all'istruzione e alla formazione professionale, è stato anche rettore in precedenza dell'Università degli Studi di Palermo, dunque ci dirà come ci si possa con l'aiuto anche di una regione ci si possa mettere in carreggiata e poi Sandra Savaglio che è astronoma e astrofisica e ha girato a mezzo mondo nei punti più importanti della ricerca mondiale e quindi poi parleremo anche con lei. A te la parola Giovanni. Grazie. Insomma, ho un parterre di eccellenza ed è che ci dice che il futuro è tra noi, ormai siamo nel futuro, cioè il futuro è davvero il futuro prossimo. Allora, la prima domanda e la parola volevo darla a Melinda Chen per chiederle, proprio perché ci spieghi la sua esperienza, qual è, che cosa fate a Shanghai in questo vostro centro? Good morning, everyone. I'm so honored to participate in this roundtable today. Thank you for having me. Magna Grace Foundation and Deep Blue Technology has established a deep friendship since our cooperation in this March. Since our first touch, we have built a bridge between Italy and China. step-by-step for sharing ideas and technologies of AI. It's a wonderful experience to work with MGF. I hope we can have more cooperation and communication in the future, and we have confidence that MGF can have deep blue technology to explore the market in Italy. Meanwhile, the cooperation between the two sides will promote the rapid development of the Italian artificial intelligence industry and provide more opportunities for young people to develop and find a job in this field. Today, I will talk about my perspective and for a guest for the forthcoming introduction of deep blue technologies in various fields in the southern regions in Italy and the benefits that these technologies would bring to improve people's lives and to support the main industries to become more efficient and increase their productivity. As you all know, we are in an area in which artificial intelligence is one of the most promising technologies of our times. It is currently changing the economy, affecting the ways in which people shop, communicate, and conduct research. I'm still a student in the field of AI. There are too many experts in the field of AI here today. I hope this could be my best chance to learn. Across Europe, governments are either writing or have already published national strategies on how best to support the development and application of AI. They are trying to prepare companies, labor markets, and societies for the expected disruption. Italy knows the importance of AI as it is a central dignity for the disruptive changes of the fourth industrial revolution. A revolution that will likely challenge our ideas about what it means to be a human and just might be more transformative than any other industrial revolution we have seen yet. In Italy, Deep Blue has already identified several applications of technologies based on autonomous driving bus, robotics, AI city, biometrics, AI retail that can be applied in different sectors such as health care, education, environment, transportation, and smart cities, which can help the country to improve the life of citizens, modernize Italian industries, reduce the cost of manufacturing sector, upgrade the infrastructure, and provide better services. For Deep Blue, Southern Italy is a strategic area that has a huge potential in terms of development. Opening Deep Blue Italy branch will allow us to adapt our technologies in order to preserve the immense archaeological heritage, make cities more efficient and sophisticated, as well as provide sustainable urban infrastructure. We believe that the Chinese approach to bring AI technologies to European countries and enterprises will have a very positive impact on their competitiveness and performance in the market. Working closely with local partners who can help us to get a better understanding of the necessities and the regulations in Italy. And more importantly, we have reached a strategic agreement to jointly develop the Italian market. Thank you. Dove pensate di aprire questa sede, se ho ben capito, in Italia? I think our Italian branch office will be opened as soon as possible. So, I think in this year... Yeah. Where? Ma dove? Where? Non è ancora deciso. Roma. Ah, a Roma. Ok. Ok, ok. E cosa c'è nel vostro futuro? Nel futuro di Deep Blue? Esatto. In Italia in particolare. Ok. Ok. I think we can provide our excellent technologies to Italian and we can have the start-up set up the new market in China. I think this is very important. Voi siete così all'avanguardia e c'è anche già delle collaborazioni che avete instaurato con l'Italia. Ci sono già state delle collaborazioni in particolare su alcuni settori? Non so, lei ha parlato della robotica anche per l'assistenza. Ci sono già stati degli semi, dei germi di collaborazione? Ci saranno. I think we can provide our products. But that's not enough. We can cooperate with Italian University and we can cooperate with a lot of start-up technology, AI, company. Yes. Fantastico. Bene. Io amplierei un pochettino il campo diciamo di questo futuro. Ieri abbiamo parlato, in questi giorni voi avete parlato molto del sud, dei tanti sud con tutte le loro contraddizioni, dalle eccellenze alla mafia. E adesso invece entriamo nel campo appunto di che cosa ci riserve il futuro, di che cosa è questo futuro che ormai, come dire, è accanto a noi, che noi stiamo vivendo. In questi giorni c'è stato un dibattito a Milano organizzato da Repubblica che si chiamava On Life, che è stato un titolo con un elemento di nuovo conio. Noi siamo online o offline, in questo caso è stato coniato questo termine che riguarda la nostra vita, siamo sempre interconnessi. È cambiato proprio il nostro modo di stare al mondo, questo lo sappiamo tutti, più difficilmente ci affacciamo, o cominciamo adesso forse ad affacciarci per teorizzare che cos'è questo nuovo in cui noi siamo immersi. E queste novità noi le dobbiamo ad alcune grandi personalità come il professor Faggin, ad esempio, a proposito di intelligente artificiale e invece di microprocessori e di tutto quello che appunto, poi noi diamo per scontato, ma insomma c'è stato un momento in cui è stato inventato. Ecco, ci racconta un po' la sua esperienza, professore? Lei è così? Il microprocessore è essenzialmente l'unità centrale di un computer. Il computer è già stato inventato e la differenza fondamentale tra il microprocessore e l'unità centrale di un computer tradizionale è che il microprocessore è in un singolo pezzettino di silicio. Cioè è integrato, è monolitico, è fatto tutto di colpo, se vogliamo, attraverso processi successivi, però tutti sullo stesso pezzetto di silicio. E quindi è stato possibile aumentare la velocità della unità centrale, è stato possibile ridurne il costo e quindi aumentare le prestazioni, vista la velocità più alta. E questo ha creato tutta una rivoluzione, perché, per esempio, quando un computer era grande come una stanza, non si poteva mettere in uno spazzolino da denti. Quindi molte applicazioni del microprocessore, del computer, sono arrivate fino a entrare, non so, in un monitor del cuore, per esempio. È difficile mettere una stanza piena di elettronica nel cuore, oppure è arrivata nei giocattoli e così via. Quindi tutte queste cose sono state possibili vista l'integrazione di questo dispositivo. E la tecnologia che ha reso possibile il microprocessore è stata la tecnologia MOS con porta di silicio che ho sviluppato alla Fairchild nel 68 e che ha permesso di fare circuiti integrati, quindi usando silicio, con dispositivi di nuova concezione che erano cinque volte più veloci, erano due volte più densi, quindi a metà costo, ed erano affidabili. Quindi con questa tecnologia tutti i pezzi mancanti di un computer intero in un chip sono stati possibili. La memoria dinamica RAM, per esempio, le memorie non volatili, i sensori di immagine CCD e naturalmente il microprocessore. Quindi questa successione di invenzioni, prima il Silicon Gate Technology che ha permesso il microprocessore, poi il microprocessore che ha permesso tutti i pezzi mancanti, ha poi raggiunto il punto in cui il computer può essere tutto in un pezzettino di silicio. Oggi addirittura un intero sistema che può includere moltissimi computer, 10, 20, 50 computer dentro questo pezzettino di silicio, sono tutti monolitici, sono fatti con la stessa tecnologia che ho inventato nel 68. Quindi questo è il mio contributo. Beh, insomma, meraviglioso, no? Tutto questo ci apre, ci rende consapevoli del mondo in cui noi stiamo ormai vivendo. Lei ha anche inventato il touchscreen? Sì, noi, io, dopo le invenzioni dei primi microprocessori dell'Intel, 4004, 8008, 8080 e 4040, sono diventato un imprenditore e quindi ho creato la mia prima medita, la Zilog, che ha creato il microprocessore Z80, e il primo computer in un chip, la Z8, e questi dispositivi poi hanno avuto molto successo e sono ancora oggi in produzione. E poi ho creato altre ditte, la mia ultima ditta, la Synaptics, ha creato i touchpad e i touchscreen, che usiamo comunemente nei nostri dispositivi portatili. Alla Synaptics io studiavo le reti neurali più di 30 anni fa, quando gli addetti ai lavori pensavano che le reti neurali non fossero la soluzione adatta per risolvere i problemi dell'intelligenza artificiale. essenzialmente ho scoperto che queste reti neurali avrebbero veramente risolto il problema, però ci volevano computer molto più veloci per riuscire a utilizzarle, e di fatto negli ultimi 10 anni, 5 anni, l'intelligenza artificiale usando le reti neurali è decollata e oggi abbiamo tutti questi nuovi problemi che ci dobbiamo risolvere. Comunque io non sono un troublemaker, come si dice, io cerco di usare la tecnologia per il bene di tutti e questo richiede qualcosa che va al di là della tecnologia, che ha a che fare con la spiritualità e la capacità umana di controllare quello che facciamo. Allora, prima di dare la parola posso fare una sola altra domanda, ma è vero che una volta lei ha detto no a Steve Jobs? L'ho letto? Sì, ho detto no. A che proposito? Perché noi abbiamo inventato alla Synaptics il touchscreen, il touchpad, il touchscreen, e il touchscreen io ho capito subito che poteva essere i telefonini portateli con grande vantaggio e a un certo punto, quando i telefonini sono arrivati a un certo livello, all'inizio degli anni 2000, a un certo livello di intelligenza, andavo in giro, con la mia gente naturalmente, a presentare il touchscreen alla Nokia, alla Motorola, alla RIM, a tutte le ditte che facevano telefonini portateli, facendo vedere che con il touchscreen si potevano ottenere molte prestazioni impossibili col telefono di prima. e nessuno lo voleva. Per cinque anni noi siamo andati in giro, ci ridevano dietro, ma come vuoi, ma cosa vuoi fare? E allora, poi siamo arrivati alla Apo, non sapevamo che la Apo volesse fare un telefono portatile, e a quel tempo noi eravamo fornitori della Apo, fornivamo la rotellina del iPod, non so se vi ricordate, per la musica, quella rotellina ha stato solido, che avevamo fatto apposta, ce l'abbiamo inventata noi, gli abbiamo dato all'Apo, l'Apo ha detto sì, sì, che bella, e dopo l'hanno presentata come se l'avessero inventata loro, ma a parte quello, quando abbiamo fatto vedere il touchscreen, Steve Jobs lo voleva, non ci ha detto per cosa, ma lo voleva, lo voleva usare, però voleva l'esclusiva, e allora abbiamo detto no, l'esclusiva non ve la diamo, quindi se lo sono fatti loro, hanno introdotto l'iPhone, e questo ha creato il mercato anche per noi, e quindi noi abbiamo benificato della introduzione sul mercato di un prodotto con il touchscreen. Bene, bene. Posso sottolineare una cosa, è proprio lì che gli europei hanno perso la scommessa, con il no a lei, perché hanno dovuto chiudere quelle due industrie telefoniche, diciamo, interessanti, che c'erano, la finlandese, e l'altra la svedese, esatto, nel momento in cui, perché, diciamo, questo l'ho visto fare in altre cose, ma quando, insomma, si dice, vent'anni fa, che telefono avevate, tutti tirano, il vostro telefono è europeo, tutti tirano sulla mano, ma adesso non c'è più un telefonino europeo, non c'è più un cellulare europeo, e quel no è stato determinante, quindi questo ci lascia capire come di per sé la comprensione, oltre che lo strumento anche, diciamo, ma l'intelligenza di capire quando siamo davanti a delle svolte, non è un fatto secondario, ed è stata una sconfitta enorme per l'Europa, quel no che hanno dato a lei, una sconfitta enorme, incredibile professore, non sapevo esattamente che fosse lei, diciamo, avevo sempre riflettuto su questa cosa, per capire come mai, no, come europei, che eravamo molto avanzati da quel punto di vista, a un certo punto abbiamo dovuto chiudere tutte le industrie, per quel motivo. Molto bene, viva, no, molto interessante, capire che c'è un italiano dietro questa scoperta, e del come non solo l'Italia, ma anche, ma anche le altre, le altre industrie europee, sono incapaci, in questo caso, di fare sistema, e di comprendere dove si dirige, dove va la svolta, cioè di avere questo senso della prospettiva che comunque emana la tecnologia, perché i finlandesi e i svedesi hanno pensato che il telefono dovesse servire solo ad essere telefono, in realtà è diventato il grande strumento, mi ricordo che sull'Italia, all'epoca, sugli italiani, si diceva a tutti, si rideva un po', no, si diceva, tutti hanno il computer, il computer, noi invece gli italiani ci siamo buttati sul telefonino, telefoniamo tutti, perché c'è questa grande passione della comunicazione tra tutti gli italiani, all'improvviso siamo diventati più avanzati di tutti perché attraverso appunto lo smartphone passa tutto. Allora, una piccola aggiunta, quando l'Apple ha introdotto l'iPhone, la Nokia aveva più del 30% del mercato mondiale di telefonini, la Motorola era seconda con percentuale, adesso non mi ricordo, ma comunque una buona percentuale, poi c'era la RIM che aveva il telefonino più intelligente che aveva una tastiera. Queste tre ditte cinque anni dopo sono sparite, sono sparite completamente, questo vuol dire, cosa vuol dire la visione di un capo di azienda. Steve Jobs aveva visione, gli americani e anche gli europei tranne Steve Jobs non hanno avuto visione e la visione si paga cara. La mancanza di visione si paga cara. Si, si paga cara. Sì, perché la visione in qualche modo come dire, dà conto non solo della capacità di stare, di struttura manageriale di chi è a capo di un'azienda ma anche della capacità di studio e quindi di prendersi quel tempo necessario per capire, approfondire e guardare oltre. Questo è importante ed è questo all'origine di molti dei problemi europei diciamo nelle nostre imprese ma proprio per questo diciamo parlando di Europa e di cervelle in qualche modo in fuga perché abbiamo molti italiani e molti europei che sono in giro per il mondo a fare il loro lavoro di altissimo prestigio qui abbiamo con noi Sandra Savaglio che è astronoma e fisica che prima ha studiato si è formata all'università di Cosenza poi è andata a lavorare alla John Hopkins University poi è stata alla Max Planck Institute in Germania e poi è tornata a casa e come mai? Letteralmente sono tornata nel posto dove sono cresciuta si torna a casa Lessi esatto ci sono voluti più di vent'anni e questa è stata la visione parlando di visione del mio professore con cui io mi sono laureata mi disse guarda tu ho capito cosa vuoi fare puoi farlo da altre parti imparare qualcosa e poi eventualmente portarlo qui per fare crescere ma non perché sono io speciale ma perché gli scambi nella ricerca scientifica sono necessari in tutti i posti anche i tedeschi vanno all'estero per dire gli inglesi gli olandesi gli americani gli americani un pochino meno e quindi lui mi mandò pensando che un giorno sarei tornata ci sono tornata ci sono voluti parecchi anni più di vent'anni quindi sì diciamo che è stata una storia a lito fine per me penso che sia io ci ho guadagnato diciamo perché sono stata tanti anni all'estero essere italiana essere tanti anni all'estero è un sacrificio perché ci manca la famiglia ci manca il clima ci manca il cibo la gente l'umanità perché c'è tanta umanità nel sud e questa è una cosa però poi è vero ma non basta cosa? è vero ma non basta sì lo so manca la visione allora uno ci sono tanti problemi in Italia per la ricerca scientifica uno è che ci trattano come pezzenti come potenziali truffatori cioè noi dobbiamo lo dicevo prima dobbiamo comprare una penna dobbiamo riempire un foglio di carta perché devi giustificare le spese nei minimi dettagli quindi io perdo tempo a fare queste cose e in più siamo anche controllati dalla politica non è che dice vabbè vi diamo questi quattro soldi fateci quello che volete non lo vogliamo sapere portate i risultati se ce l'avete no ci vogliono pure controllare sfortunatamente persone che magari non hanno conoscenza non sono dei manager della ricerca scientifica quindi il danno è parecchio forte perché è un danno che si fa al paese cioè l'Italia prepara gli studenti lo fa benissimo ci sono ottime università in Italia e che costano cioè la vita di uno studente costa parecchio gli studenti non pagano fortunatamente il fatto che la cultura sia accessibile a tutti è un grande risultato sociale che ci invidiano tutti però poi gli esporti è gratis no cioè è come dire io compro un'automobile e poi la regalo e questo è quello che succede e quindi sfortunatamente la politica non si occupa di questo danno perché appunto è un danno che si fa a lungo termine perché queste persone che sono preparate vanno via e nessuno viene questa è la cosa cioè in Germania pure vanno all'estero i tedeschi viaggiano tanto gli piace ai tedeschi viaggiare andare a lavorare però in Germania ci sono tantissimi stranieri ci sono tantissimi cinesi che hanno cambiato il paese in Germania e ci sono tantissime donne straniere in Germania perché non c'hanno le donne in Germania e che siccome che questo è un danno perché la parità di genere nel mondo del lavoro adesso è considerata una priorità in Europa però in Germania le donne non vogliono fare ricerca allora se le prendono dall'estero eccetera è molto interessante questo ma rispetto a qualche anno fa no? allora partita e rientrata ma rispetto a qualche anno fa è cambiato qualcosa? in peggio o in meglio? sicuramente le cose cambiano sempre e meglio sul lungo termine come investire in borsa no? ci puoi perdere oggi domani ma perché c'è maggiore consapevolezza? ma perché comunque diciamo la ricerca l'università l'istruzione eccetera è considerata comunque una priorità no? magari non abbastanza ma comunque si investe e si cresce però non ha sufficienza cioè siamo rispetto ad altri paesi siamo ancora un po' lì indietro cioè noi facciamo per esempio per assumere le persone bisogna fare i concorsi come nella pubblica amministrazione e quindi ci sono gli iscritti non gli iscritti gli iscritti no? scrivere con la penna la penna non ti puoi portare la penna da casa devi usare quella penna i fogli sono quelli e sono quelli lì e basta e voi vi ricordate la storia di Marika Branchesi? allora detto tra noi lei ha fatto un concorso di questi e ha fatto un errore burocratico cioè i fogli erano cinque per lo scritto lei non ha lei doveva mettere questi fogli dentro una busta sigillarli cioè non stiamo parlando del medioevo stiamo parlando di Marika Branchesi che adesso lavora all'ACU in un istituto internazionale ha dimenticato di mettere quel foglio bianco nella busta e ha fatto questa ingenuità cioè una scienziata di livello mondiale dice questo foglio bianco cosa ne faccio? questo ha fatto di sbagliato concorso annullato per lei è stata esclusa per questo motivo e noi andiamo all'estero e raccontiamo queste cose e ci guardano così è un danno enorme allora lei avrebbe potuto dire vabbè basta chiuso con l'Italia me ne vado ad un'altra parte se le sarebbero presse tranquillamente però ha detto io voglio stare in Italia il marito è tedesco pure vuole stare in Italia alla fine hanno avuto diciamo la possibilità comunque di entrare dentro però immaginate questi anche io vi potrei raccontare le mie vicissitudini ma lasciamo perdere però si fanno dei danni parecchi danni su questa cosa burocratica c'è un burocrate che controlla che le cose vengono fatte secondo le regole cioè mi dovete spiegare perché lei non ha messo questo foglio bianco dentro la busta sigillata perché poi l'altra busta sigillata deve contenere il suo nome perché io sono nella commissione io non ero nella commissione però la commissione deve aprire le buste e leggere il tema e non sapere chi l'ha scritto perché tu se tu commissione agisci secondo sei diciamo si assume che la commissione voglia fare un favore a qualcuno allora io leggo un tema non so chi l'ha scritto quindi questo dovrebbe prevenire no? e noi ci dobbiamo scontrare con queste cose cioè questi siamo scienziati di primo livello e che sono trattati come dei potenziali lestofanti allora noi dobbiamo chiudere gli occhi e andare avanti con queste regole e sperare che ci vada bene posso dire una cosa parlando dello spazio ma è vero che l'Italia è all'avanguardia in questo negli studi nelle ricerche? sì nonostante i mezzi siano molto pochi cioè io potrei dire rispetto alla Germania se a noi ci arriva uno a loro gli arriva dieci quindi sono è all'avanguardia perché gli scienziati hanno il desiderio fanno quel mestiere non perché devono diventare ricchi ma perché vogliono trovare delle risposte però abbiamo bisogno dei mezzi chiaramente e gli italiani si accontentano di poco cioè un ricercatore prende uno stipendio come in Germania uno studente di dottorato prende uno stipendio di questo tipo qua ma e poi c'è i soldi che arrivano per fare ricerca comunque la ricerca costano voglio dire una volta si faceva con la penna un foglio di carta e adesso non è non è pensabile fare più le cose in questo modo quindi ci danno questi quattro soldi ce li ce li dividiamo con i denti perché poi dobbiamo competere uno contro l'altro perché ci sono delle gare per diciamo distribuire le risorse e basta andiamo avanti quello che ci tiene in Italia è che l'Italia è bella e si mangia bene io sto andando forse Federico lo sa come si mangia per esempio gli Stati Viti cosa ti fanno mangiare ma in Germania anche così c'è il sole c'è la gente c'è tanta bella gente ci sono delle storie molto commoventi che poi ti fanno io sono felice di essere tornata in Italia grazie mi hanno detto ma tu hai avuto coraggio ho detto il coraggio è stato stare all'estero per tutto questo tempo quando mi hanno detto quando io stando in Germania ho dovuto a un certo punto decidere che cosa fare stavo investigando la possibilità di andare a Parigi perché ho dei colleghi lì che mi conoscono che conoscono che conosco e quindi volevo andare a Parigi e quindi dicevo vieni vediamo eccetera mentre stavo facendo questa cosa qui il mio professore che mi mandò via vent'anni prima mi disse sei interessata a tornare ho detto sì mandami il curriculum questo ho fatto è stata una cosa e ho mandato per un anno e mezzo non ho sentito più niente ho detto vabbè chissà che cosa sarà successo vabbè andiamo a Parigi era l'ottobre 2013 mi dice è buona notizia la tua domanda ha avuto successo ho detto a Parigi grazie è stato bello io torno a casa ma non è che è stato un tornare a casa cioè come Ulisse che alla fine per un viaggiatore tornare a casa può essere considerato una sconfitta oppure una situazione impossibile da vivere per me io sono tornata in un ambiente che conosco con tutti i problemi non vi posso dire i problemi che ci sono dalle mie parti però sono i miei problemi cioè me li sento miei mentre andando all'estero ti senti comunque uno straniero come se non ti appartenessero come se le cose che tu vivi ogni giorno non ti appartenessero e invece stando a casa tua tu puoi insultare le persone e sentirti bene capito scherzo non si può mai cioè delle volte poi ti trasfo la tua vera natura viene fuori quando insomma ci ha raccontato un po' delle le disavventure di questo viaggio di Ulisse che è stato per l'appunto citato prima ma assessore Lagalla lei è stato anche rettore all'università insomma sa meglio di me è inutile che lo spieghiamo a tutti perché lo sappiamo e che spesso molti di questi circuiti che c'è anche un'autonomia delle università su questo molti dei circuiti sono bloccati perché ci sono delle baronie che continuano anche diciamo negli anni 2000 a imperare per cui si tramandano i posti di padre e figlio di figlio e nipote di cugino e amico e amico e amico e amico e amico fuori in maniera secca diciamo tutti quelli che sono i talenti secondo lei strutturalmente riusciremo mai a uscire da questa mentalità medievale o no? Beh io devo dire che non sempre l'esperienza depone in questa direzione se mi dovessero chiedere provocatoriamente se preferisco la baronia o la stupidità certamente io preferirei la baronia nel senso che noi troppo spesso e lo ha ricordato la professoressa poco fa siamo ingabbiati all'interno di una farraginosità insopportabile di tipo amministrativo e di tipo burocratico che spesso deprime le possibilità e le potenzialità straordinarie del nostro sistema dell'istruzione e della ricerca il fatto che la professoressa sia tornata a Cosenza mi pare all'università della Calabria significa che in quella università c'è stato chi ha creduto nel fatto che il merito all'università si debba affermare e non è mi creda il solo esempio io vorrei che l'università italiana venisse sotto certi versi sottratta a questo stereotipo del familismo a tutti i costi che per carità in alcune circostanze in alcune condizioni può essere vero ma è altrettanto vero che c'è tanta gente che fa sforzi importanti in questo paese per affermare il merito e per migliorare la qualità della nostra ricerca scientifica e della produzione scientifica italiana che nonostante posizionata sul piano delle risorse disponibili in una posizione certamente non elevata tra i paesi OX riesce invece ad avere in termini di produzione scientifica e di valutazione del ranking scientifico una posizione che la colloca mediamente per il valore del finanziamento di ogni ricercatore per la ricerca la colloca nettamente al di sopra della media internazionale degli stessi paesi OXE gli ultimi dati ci dicono per esempio che il finanziamento dell'European Council for Research ha promosso in Italia 35 grandi progetti di ricerca quello che ci deve fare pensare è che i nostri ricercatori hanno scelto inoltre la metà dei casi di andare a spendere questo grant in università diverse da quelle italiane per la insufficienza dei finanziamenti ma soprattutto per le difficoltà di ordine burocratico che sono quelle che sono state richiamate è assolutamente vero ed è demenziale torno al concetto di stupidità che per comprare un reattivo che deve esaminare un pezzo istologico di ricerca che ci mandano da altri paesi del mondo cito un fatto realmente avvenuto quel pezzo anatomico è dovuto restare in frigorifero per quattro mesi per il semplice fatto che la gara per comprare il reattivo doveva seguire una procedura sul mercato elettronico dove non si riveniva eccetera questa è stupidità allora preferisco avere tre baroni familisti con 50 baroni invece illuminati piuttosto che un solo ragioniere stupido che blocchi la ricerca scientifica però l'alternativa non è tra baroni e stupidi cioè l'alternativa non è tra baroni e stupidi no io lo dico no glielo dico no dico l'alternativa non è tra baroni e stupidi e burocrati è chiaro ho fatto ho fatto un discorso provocatorio si provocatorio ma infatti le rispondo in maniera altrettanto provocatoria perché per esempio sono convinta che anche l'Erasmus che dà la possibilità ai ragazzi delle università di vedere in giro in Europa come si fa a valutare e a capire certo questo fa scattare poi delle emorragie insomma mi raccontavano recentemente era una studentessa di medicina va a fare l'Erasmus al quinto anno quando c'è il semestre di chirurgia al primo giorno la mettono in sala operatoria e interviene fa l'intervento comincia a sudare freddo esce rientra riprende l'intervento cioè alla Sorbona di Parigi e dopo i sei mesi di internato ci sono stati dei professori che le hanno detto si ha intenzione di continuare e vuoi una specializzazione diciamo di medicina interna chiama che ti troviamo il posto l'approccio qui in Italia è che tu nemmeno quando fai la cosa entri in corsia cioè diciamo o entri in corsia forse quando ti stai preparando negli ultimi anni ma certamente non vai a lavorare in sala operatoria diciamo c'è un approccio che è vero che la nostra medicina forma le nostre facoltà di medicina formano molto di più rispetto ma questo vale anche per tutte le altre facoltà universitarie a mio avviso insomma perché ormai si è diffusa questa pratica della conoscenza e quindi dello studio per quiz che evidentemente insomma diciamo si rivela insufficiente rispetto alla comprensione del mondo da qui l'alto livello di formazione ma anche la grande difficoltà a entrare in quelli che sono poi i meccanismi e i circuiti veri della ricerca quindi anche dell'inserimento nelle facoltà allora quello che volevo chiederle insomma poi continuiamo con il nostro giro di discussione e come in questo caso lasciando a parte il mondo universitario però una regione lei adesso è assessore può farsi carico di un tipo anche di ricerca di un polo di eccellenza per la ricerca soprattutto in zona sud insomma abbiamo visto l'interesse anche della Cina e delle imprese ad alta tecnologia cinese a venire in Italia cioè diciamo ma il nostro polo di ricerca un polo di ricerca può essere davvero sostenuto promosso con i fondi regionali lei intanto ha sollevato un problema importante rispetto al modello formativo nazionale tra i canoni dell'apprendimento il sapere il saper essere il saper fare sicuramente l'Italia è straordinariamente avanti per quanto riguarda il sapere molto meno per il saper fare anche se devo dire che molte iniziative nazionali e regionali vanno in linea con questa consapevolezza e quindi tendono a migliorare e ad evolvere in questa direzione cosa si può fare certamente la premessa è una oggi il sapere o la esigenza del sapere che è finalizzata anche a un'attività e a un lavoro di cui non conosciamo in questo momento nel perimetro nei confini perché la dinamicità della ricerca e delle scoperte e quindi l'avanzamento della tecnologia diciamo rende probabilmente inutili dei lavori sui quali invece oggi magari programmiamo anche un modello formativo cosa voglio dire voglio dire che il sapere e la conoscenza oggi devono guardare sempre di più all'acquisizione di nozioni trasversali quelle soft skills di cui ovviamente l'information e communication technology è un elemento assolutamente importante cosa fare in termini molto brevi non mantenere un modello formativo che sa di antico occorre guardare all'inserimento attivo e propositivo della tecnologia all'interno delle scuole la scuola digitale noi siamo impegnati proprio il giorno 3 abbiamo avuto un incontro di questo genere al ministero e alla fondazione per il sud e siamo impegnati in un progetto sperimentale di questo tipo spingere l'istruzione tecnico professionale ed è un'attività che stiamo facendo con particolare rafforzamento delle attività laboratoriali finalizzate anche agli IT S che in Italia contrariamente alla Germania invece sono abbastanza negletti e invece si tratta di fondazioni dove stanno insieme università scuole superiori aziende con un capacità di conoscenza e di avanzamento della conoscenza particolarmente importante un rapporto continuo tra impresa scuola università con una sensibilizzazione forte a questo tema dell'integrazione con l'azienda la regione siciliana sta partendo in queste ore in questi giorni con un bando per l'impresa didattica cioè le scuole cominceranno a fare impresa anche nel settore insieme alle imprese evidentemente che le seguiranno anche nel settore dell'information communication technology ma soprattutto stiamo portando la responsabilità dei progetti di formazione professionale all'interno delle imprese per curvare i modelli di apprendimento alle esigenze reali delle imprese non ci possiamo più permettere di spendere denaro pubblico in modo improduttivo cioè reiterando modelli formativi che non producono occupazione ma producono net un'ultima considerazione diciamo sulla mobilità e sull'Erasmus la regione siciliana ha investito 6 milioni di euro attraverso Indire per potenziare la mobilità giovanile delle scuole e delle università siciliane sia in uscita sia con Grant in entrata per studenti stranieri convinti come siamo che il processo di internazionalizzazione e di confronto a livello sovranazionale divenga un portato fondamentale per diciamo sensibilizzare alle nuove tematiche la classe dirigente del domani è vero purtroppo che condizioni come queste fanno spesso remorare i nostri ragazzi e restare i nostri ragazzi in altera del paese ma la globalizzazione reca con sé inevitabilmente e obbligatoriamente il tema della mobilità il problema vero è che noi non siamo capaci di essere attrattivi fino al punto che ragazzi provenienti da altre parti d'Italia e del mondo vogliano restare da noi questa è la strada da battere bene andiamo un rapido giro volevo chiedere una cosa alla professoressa Savaglio perché mi incuriosisce molto lo spazio ma io non capisco niente però ecco come si fa a divulgare le scoperte che voi fate io ad esempio non capisco mai vengo a affascinare proprio mi affascinano leggere e oggi c'era Lucy Hawking che diceva vedremo di portare i ragazzi dentro un buco nero con delle esperienze virtuali eccetera cioè una astrofisica fa evidentemente ha una competenza ha uno sguardo sulle cose che noi comuni mortali diciamo utenti lettori non abbiamo non cerchiamo di avvicinarci e con molta difficoltà lo facciamo io tre volte leggo 150 anni luce c'è un pianeta simile alla terra accidenti abbiamo visto un pianeta che oggi è simile alla terra no era 150 anni luce fa quello che noi vediamo allora come si fa a comunicare tutto quello che voi scoprite vedete apprendete dobbiamo utilizzare un linguaggio di dobbiamo tradurre un linguaggio che apparentemente l'inglese o l'italiano che però è molto tecnico ed è stato creato per la ricerca scientifica tradurlo in un linguaggio che la gente capisce cioè per esempio le distanze non sono più distanze ma c'è anche il tempo che io devo considerare perché la velocità non è infinita e la velocità più alta che possiamo raggiungere con la luce è 300.000 km al secondo l'immagine della luna che noi vediamo la notte ha viaggiato per più di un secondo prima di arrivare a noi cioè se esplode la luna noi ce ne accorgiamo un secondo dopo circa ecco quindi la luna è la cosa più vicina che c'è poi se si parla di centinaia di anni luce stiamo parlando di cose vicine poi la nostra galassia che è casa nostra sono 100.000 anni luce di distanza e la galassia gigante è simile alla nostra più vicina è 2 milioni e mezzo di anni luce Andromeda è un'immagine che ci arriva e che ha viaggiato per 2 milioni e mezzo di anni eccetera eccetera ci sono cose che noi guardiamo che sono l'immagine partita quando c'erano i dinosauri sulla terra ma queste sono le cose vicine le cose più lontane sono miliardi di anni luce di distanza quindi il nostro è un viaggio spazio-temporale e l'universo è praticamente vuoto e le forze la forza principale che governa tutto ciò è la forza di gravità che è la stessa che ci tiene piantati sulla terra il fatto che noi siamo pesanti perché esiste una proprietà della materia che si chiama forza di gravità e se noi fossimo sulla luna saremmo più leggeri saremmo tutti più felici e se fossimo in grado il telefono ti squirla Terzulli chi è? il mio vice direttore chi è? il mio vice direttore digli di non disturbare esatto gli scienziati sono molto curiosi io sono curiosa di tutto ed è un'ossessione io sto guidando la macchina devo stare attenta perché se c'è qualcosa che mi distrae io sono in pericolo di vita e quindi dice come si fa la divulgazione scientifica si deve imparare perché io utilizzo un linguaggio che per me è normale per te non lo è quindi devo fare uno sforzo e ricordarmi che che tutte queste cose per le persone che sono abituate andare a casa mangiare preparare il pranzo cucinare fare la torta eccetera andare a spiegare che che il cielo notturno è bombardato da radiazione elettromagnetica cioè da cose tipo la luce quella è radiazione elettromagnetica è il segnale più potente che ci arriva dallo spazio è una radiazione cosmica fossile che è la testimonianza più evidente dell'esistenza di un evento che si chiama Big Bang che ha creato l'universo ecco questo è io quello che faccio e che devo raccontare e questo segnale è una radiazione elettromagnetica nelle microonde come il forno di casa vostra e queste cose le racconto agli studenti e ogni volta che traduco diciamo questa operazione di traduzione da un linguaggio tecnico a un linguaggio che deve essere comprensibile mi riporta sulla terra ma lo fa in una maniera che può crearmi anche come dire dei sentimenti importanti per me perché io traduco queste cose che sono fondamentali che sono importanti in modo che io poi le capisco quanto sono importanti cioè non so come dire mi viene in mente la sindrome di Stendhal Stendhal è andata a Firenze ed è caduta in depressione ma perché è caduta in depressione perché ha visto una bellezza che non si immaginava ecco la scienza è così cioè noi siamo noi tocchiamo con mano l'universo intero cioè l'origine e l'evoluzione dell'universo e quindi questa è un'esperienza fantastica no? però quando lo facciamo tutti i giorni è come cucinare come fare una torta no? la torta la fai meccanicamente le occhi chiusi anche noi facciamo le cose con le occhi chiusi quindi non non riusciamo ad essere sempre coinvolti dal punto di vista emotivo però quando poi lo devi tradurre allora lì c'è il coinvolgimento emotivo dottoressa scusa Giovanna se ti interrompo stiamo concludendo quindi diciamo un ultimo giro rapido una cosa alla dottoressa voi fate robot anche per lo spazio vi occupate anche di robotica per lo spazio per le ricerche spaziali per lo spazio le ricerche spaziali per lo spazio roba lo spaziali per lo spazio grazie grazie, adesso appunto dovendo andare a concludere professor Faggine lei ha detto poco fa delle cose che mi hanno molto colpite a parte l'importanza veramente delle sue invenzioni del lavoro che lei ha fatto lei ha detto però io non lo lascio mai solo tutto questo non lo lascio andare ma ho sempre tengo sempre presente la spiritualità l'esperienza, l'umanità allora la mia domanda è c'è un rischio in questa società digitale in cui noi ci troviamo c'è un rischio di lasciarci andare o lasciare andare la tecnologia per conto suo e non riprendercela più in mano di fatto poi sì, è un rischio in realtà enorme enorme soprattutto perché la pubblicità quello che leggiamo sui giornali anche come ci adeguiamo anche come i giovani si adeguano alla tecnologia che usano tutti i giorni i telefonini che sono strutture simboliche ci distaccano sempre di più della nostra natura spirituale e io studio la natura della consapevolezza da più di 30 anni quando studiavo le reti neurali mi sono chiesto ma questi libri di neuroscienza che descrivono segnali elettrici segnali biochimici eccetera ma come fa come fanno questi segnali a tradursi un'esperienza senziente un'esperienza fatta di sensazioni sentimenti di esperienza vissuta e gli scienziati non hanno risposta a questa domanda per loro il virtuale è reale e oggi c'è appunto questa confusione fondamentale dove la simulazione della realtà è realtà per molti scienziati per molti soprattutto quelli che lavorano nell'intelligenza artificiale questo è normale e quindi ci viene propinata un'idea della nostra umanità come di macchine difettose che le macchine che loro faranno supereranno in un futuro non troppo lontano ecco io questa idea che ci è propinata dai giornali giorno dopo giorno non ci credo neanche un po' e questo non è perché io mi rifiuto di credere di essere una macchina difettosa è perché non è la verità nemmeno scientifica non è verità scientifica sono palle scusate la parola ma sono palle allora noi abbiamo un'intelligenza che non è solo intelligenza meccanica il computer può fare meglio di noi le cose meccaniche le cose che noi nella nostra intelligenza siamo lentini dopo tutto un computer può fare un miliardo o un milione di miliardi di operazioni moltiplicazioni al secondo io se sono bravo ne faccio una in tre minuti quindi ovviamente la macchina è molto superiore a me devo sentirmi inferiore la macchina perché fa tutte queste moltiplicazioni e divisioni no anzi benvenga la macchina che fa queste cose per me quindi bisogna imparare usare la tecnologia per il bene comune non per fare cose per controllare il mondo e purtroppo oggi c'è una tendenza a fare questo tutti i social media cosa fanno prendono la nostra informazione privata e la commercializzano la monetizzano e questo non va bene e perché poi dopo cosa fanno ci fanno vedere nel telefonino le informazioni che loro che qualche AI engine pensa che siano pensa per modo di dire tra virgolette perché non pensano per niente ma ci fanno vedere quello che pare che noi vogliamo comprare e quindi noi diventiamo schiavi di questo oggetto che si chiama telefonino questo non va bene bisogna ribellarsi a questo ma non ribellarsi nel senso di buttare via il telefonino il telefonino è meraviglioso ma cerchiamo di lavorare anche a scoprire la nostra interiorità quello che ci rende umani noi siamo più di macchine noi abbiamo una testa che ha la parte meccanica la macchina la farà meglio di noi ma abbiamo anche l'intuizione la macchina non ha intuizione abbiamo creatività abbiamo inventiva noi inventiamo inventiamo una cosa che non esisteva prima come fa la macchina inventare una cosa che non esiste prima può copiare può compiare quello che è già stato fatto o farlo magari meglio ma inventare non è una cosa che una macchina fa noi applichiamo le macchine i termini che usiamo tra di noi che hanno senso soltanto per entità che sono coscienti ma la macchina non è cosciente e nel mio modello non lo sarà mai non mi dilungo a spiegarvi perché ci vorrebbero tre ore però nel mio modello la macchina non avrà mai coscienza perché la macchina è puramente meccanica la nostra natura è una natura che si basa sulla vita e la vita è un fenomeno quantistico non è un fenomeno classico come i computer che abbiamo i computer che abbiamo sono i computer che abbiamo sono booleani 1 e 0 la realtà quantistica che però si rivela in questa realtà fisica soltanto come realtà booleana esiste in sovrapposizione di stati vuol dire che c'è sia 1 che 0 non solo ma tutti i valori tra 0 e 1 quello si chiama qubit questa è un'altra è una estensione alla realtà quantistica della realtà del mondo classico in cui c'è il bit tradizionale 0 e 1 la vita è un sistema aperto che scambia energia con il mondo esterno scambia informazione scambia materia e non è mai la stessa da istante a istante mentre un computer è sempre lo stesso parlo della materia la materia fluisce dentro e fuori in un organismo vivente non è la stessa materia con cui è stato fatto quando un bambino nasce è lo stesso di quando ha 5 anni certamente no da dove è venuta la materia quel bambino di 5 anni? dall'ambiente ed è stata riorganizzata da come era un bambino di un mese a come un bambino a 5 anni ma scherziamo questa è la realtà della vita la vita non è non è un computer ci dicono che la vita è una macchina come un computer non lo è ma neanche un po' bene grazie professore io chiuderei qui se non ci sono altre aggiunte perché questa lezione mi pare bella il discorso è molto interessante arriva fino al 5G che ormai ci vede diciamo in posizione anche abbastanza centrale rispetto alla Cina perché è uno dei problemi diciamo diplomatici che sono sorti anche con gli Stati Uniti perché intravedono la pericolosità di un controllo su tutti quelli che sono le nostre vite 5G significa che può essere controllato dal frigorifero di casa da tutto ciò che è collegato dal microonde dal forno da lì sei controllato in tutti i tuoi gesti chi ha quei dati vince sul resto del mondo qualora ci fosse diciamo una una guerra quindi questo questo è un vero un vero tema oggi che sviluppa quello che diceva il professore a conclusione per riportare al centro il mezzogiorno non solo come diciamo con un vanto probabilmente importante che riguarda tutti quanti diciamo le menti fertili che ci sono nel nostro sud le intelligenze lo studio eccetera ma per riportarlo e farlo diventare attraente come Polo lei che scelta farebbe oggi mi dica una cosa che potrebbe risultare strategica ed è la stessa domanda che faccio poi a lei una cosa sicuramente investire pienamente sulla conoscenza che vuol dire tante cose evidentemente ma vuol dire soprattutto garantire ai giovani e alle nuove generazioni la possibilità di riconoscersi in un mondo che evolve senza perdere l'umanità proprio come ci ha detto il professor Faggini grazie mille prego mi sentite sì penso che si possono fare le cose come si sono sempre fatte perché è difficile cambiarle però lasciare un piccolo spazio delle piccole risorse non troppo piccole e giovani e dire queste sono le risorse fai quello che vuoi farlo come lo sai fare nel miglior modo migliore e scommetti fai una scommessa come quando si gioca all'otto e una su dieci avrà grande successo e cambierà il mondo benissimo messaggio di speranza un po' grazie a tutti e grazie a tutti 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 grazie a tutti